buongiorno ragazze buongiorno e bentrovate nel mio canale mettete subito un pollicione perché mia figlia mi ha detto fai mettere il pollicione subito ancora prima di partire col video spollicciate e mettete un pollicione buongiorno ragazze e bentrovate nel mio canale di che cosa parleremo oggi parleremo di sfumature non è una cosa facile diciamo da eseguire ma non è nemmeno difficile se troviamo i prodotti giusti e il metodo che io diciamo che la cosa diventa molto molto facile allora avremo bisogno di colori paint che sono di colori molto pigmentati io ce l'ho sia della moira ne ho delle miscelle ne ho comprati in aliexpress elysium mi piace molto anche questo sono molto belli dovete avere dei paint molto pimentati paint possono essere sia in tubetto che anche in vasetto quelli che avete non usate però semi permanente gel color dimenticateli non sono sufficientemente pimentati per fare questo tipo di cosa che dobbiamo fare la sfumatura con la spugnetta detta anche europa finissima io la chiamo spugnetta sfumatura spugnetta adesso andremo ad eseguire la ragazze mi sono accorta che con questo metodo si accorgono i tempi si fa molta meno fatica riesce sempre non si sbaglia mai ed è molto wow anche per eseguire il baby boomer bene ragazzi io ho messo qui la forbice tanto sapete che quando vado a pubblicare il video non so non sono talmente evoluta da capire la partenza che avrà l'inquadratura del mio video sì che non lo so io ho messo le cose che mi servono e non lo so me lo farò insegnare da qualcuno avremo bisogno di una pinza stringi valli si chiama questa è una stringi valli per diciamo vedete che va a v per quanto riguarda che ne sono mandorla o se dovete fare un altro tipo invece ce ne va un altro tipo oggi useremo questa tac vedete si schiaccia da sola avremo bisogno di queste spugnette qua io questo l'ho comprato e se l'avete dalle vostre parti io devo andare a verona il primark costano una cavolata 2 euro c'è ancora il prezzo e ce ne sono non so quanti 25 pezzi in questi due modelli a me sinceramente piace quello dritto ecco ho rotto tutto poi mi vanno per cassetto e vari allora a me piacciono queste a me piacciono le dritte che sarebbero delle semplici spugnette da make up ragazzi sapete quelle per tamponare il come si chiama il correttore il forno tinta ecco questa è la spugnetta per eccellenza ragazzi se dovete eseguire una corretta però sfumatura queste spugnette vanno messe poi in una scatoletta perché non devono prendere polvere perché se avete dei pelletti la spugnatura vi verrà una schifezza vedete io questa ce l'avevo sopra il tavolo se la risoluzione della mia fotocamera ve la fa vedere piena di pelletti io questa non la userò mai ne ho un po di pezzettini vedete buttati la perché sono involata io questi li butto perché sono pieni di pelletti cosa andremo a dire i ragazzi un taglio perché poi è molto liscia e la sfumatura cioè diciamo che il colore non si attaccherebbe bene io vado a togliere questa strisciolina qua vado a tagliare un pezzettino di spugnetta eccola qui ne prenderò metà perché tanto le unghiette sempre se non dovete fare un'unghia super lunghissima e andrò a pizzicare e andrò a pizzicare vedete la spugnetta però la ciccetta della spugnetta io la chiamo ciccetta non me la dovete fare così perché così non è che ho molto così la spugnetta deve essere morbidissima bene io mi sono già preparata due tre tipo perché sennò poi faccio di video stralunghissimi e andremo a dire dire una sfumatura una scusate una sfumatura una bella sfumatura che ho già provato che mi viene proprio bella bella è la blu e la bianca proprio d'effetto però voi potete farla con qualsiasi colore aspettate che mi metto dritti l'uno è nero il bianco della miscela in una tavoletta a parte in una palette che avete quello che avete in questo momento della custodia di una cover ma in plastica ho detto guarda quasi quasi uso questa così non vi spara flash a con l'argento che le palette sono sempre in argento in acciaio e quando si fa i video vi accecano io andrò a picchettare ragazzi e a prelevare colore vedete e mi sposto un po di campo di là un attimino finché i due colori si incrociano intingo bene la mia spugnetta che sia bella ricca vedete e parto ragazze di solito la sfumatura più bella dal mio punto di vista dopo bisogna vedere a che decoro si va ad abbinare magari lo scuro bello in punta e il più chiaro giro cuticole sta perdendo già la voce ma potete farla in qualsiasi maniera ragazzi partiamo come ce l'abbiamo l'importante che capiate la tecnica allora picchietto vedete come picchietto come proprio come non ci fosse un domani vedete io qua ho la spugnetta intera adesso io dovrò prelevare un altro po di colore e andrò a picchiettare solo con il bianco perché mi serve più più bianco in punta sono partita molto alta e andrò a fare incrociare i due colori vedete che picchiettando picchiettando adesso io scenderò un po con il blu scenderò un po con il blu ma per fare secondo me da come la vedo io la sfumatura perfetta e quando col colore chiaro si va ad abbracciare il colore scuro ragazze mi esce proprio il terzo colore i puntini non si vedranno perché il colore scuro se li mangia e lo mio stomaco che brontola anche questo è ora di pranzo mi sono messa qui a registrare ecco qua ragazze questa è la sfumatura super veloce una base perfetta per quanto riguarda una nail art una stampata con gli stampi quello che volete metti in lampada e fermo il prodotto essendo un paint basterebbero anche 10 secondi per fermare il prodotto e andare diciamo a fare la seconda passata per arricchire un po più il colore noi aspettiamo una decina di secondi vedete il colore si è già fermato e andremo ad arricchire il tutto partirò un po più bassa perché voglio un po più di blu e salgo con la spugnetta bianca cioè dalla parte bianca salgo per ottenere il terzo colore picchietto 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 più picchiettate e più il colore si sfumerà scendo un po con il blu e risalgo con la parte bianca vedete non si vedono puntini non si vedono niente di niente di niente l'importante è che la spugnetta sia perfettamente pulita non ci siano pelucchi perché quelli fanno anche la differenza ecco qua abbiamo fatto la nostra sfumatura in blu metti in lampada per una decina di secondi ne faremo un'altra di un altro colore questa la buttiamo se volete potete conservarle le potete anche conservare io sinceramente le butto perché non mi piacciono andremo con il mio numero 13 ragazzi che il mio colore preferito della michelle che è un fucsia fotonico bello 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 che meraviglia il 13 della michelle nice andremo con il bianco che non è l'uno ma il due ogni volta li confondo e andremo a fare la stessa cosa volete anche veloci dare ragazze potete già sul sulla spugnetta mettere già i colori e tamponare non cambierebbe niente io ultimamente faccio così prelevo il mio colore ma effettivamente potete anche già partire dalla tipa tanto poi la sfumatura vi viene guardate questo colore non so cosa dire ragazze scendo con il viola mi alzo un po con la spugnetta vedete un po' così perché in questo momento voglio del bianco sulla punta ma non voglio rosa e vado salvo un po' e picchetto 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 mi serve ancora del colore scendo con il fucsia questo è il mio coniglio oggi ce li abbiamo tutti insomma e sto eseguendo il terzo far uscire diciamo il terzo colore intermedio sfumato e salvo scusate di là con il bianco e mi esce la sfumatura eccola qua questo metodo ragazzi è molto bello perché anche perché io in questo momento sono facilitata perché sto lavorando e ve lo sto mostrando in una tipa ma se dobbiamo andare in un'unghietta di una vostra cliente questo si può fare benissimo perché queste spugnete sono molto precisine andate a bordo cuticole sempre se non fate poi uso del pelof 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 che è quello smalto appiccicoso che non è altro che binavil diluita colorita colorata con un po' di smalto eccola qua se non guardate quel prodotto lì potete benissimo sporcare la cuticola ma mi raccomando prima di andare in lampada dovete pulirla perché questo è sempre un gel e questi prodotti chimici non devono toccare le cuticole lavate su questa poi ci andremo anche a lavorare 10 secondi passati rifaccio la mia battitura arricchisco un po' più col fucsia scendo vedete che mi è uscito la sfumatura ma mentre scendo io in questo momento però ragazzi ho bisogno vedete che come vi ho detto prima potete fare anche di queste in questo momento ho bisogno di più bianco perché la tip è trasparente ma non ho prodotto il mio bianco deve essere bianco anche perché mi serve a salire perché in questo momento vado di là vado a salire e a far uscire la mia sfumatura io la chiamo sfumatura terzo colore e state lì a battere, 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 battere finché non siete contenti del vostro della vostra unghetta non vorrei avere rosa a rovinare tutto mi fermo qui e vado in lampada questo metodo ragazzi di sfumatura io lo trovo una cosa proprio bellissima potete fare qualsiasi colore oro, argento, viola stupendo a questo punto ragazzi io ho fatto il blu e bianco e possiamo sigillare matte per poter andare poi sopra a fare una decorazione la decorazione oggi la faremo sempre con questo metodo di sfumatura userò un colore matte per far sì che la mia se non avete il matte potete sempre sigillare con un top con dispersione allora mi togliete la dispersione se invece avete un matte senza scusate un sigillante senza dispersione lo stenderete e andrete a dopacizzarlo in entrambi i casi sia che lo sgrassiate o no ve lo dovete opacizzare c'è un peluchetto sul matte si formano sempre queste pellicoline perché ragazzi perché ha una foto sintesi clorofiliana sto dicendo una cavolata eh che è proprio anche alla minima esposizione a luce che abbiamo anche delle lampade lui foto polimerizza farò la stessa cosa questo colore stupendo e andremo a preparare la nostra base che andremo a ulteriormente decorare con che cosa ragazzi con delle mascherine con delle mascherine che le trovate anche in amazon le fate comprare anche le ragazze del mio gruppo costano 3 euro e qualcosa le trovate anche in amazon io vi lascio anche ma non si capisce niente è scritto in sono quelle sette mascherine io ne ho molte sono usate anche per quanto riguarda lo stamping scusate l'aerografo l'aerografo e ce ne sono di svariati tipi con le foglie, con le strisce, con le rose anche questa con le rose che non sono quelle ma sono queste useremo questa se viene ma viene viene mi piacciono anche questi soggettini qui che sono un po' più un po' più come si dice astratti sapete che io sono fatta così polimilizzato il mio prodotto per 60 secondi non l'ho visto finire andremo a andiamo con le rose andremo a tagliare queste mascherine sono molto belle anche per l'aerografo allora quelle per l'aerografo scusatemi quelle per l'aerografo sono diverse sono in silicone adesso non vorrei dire una cavolata non sono fatte così si possono salvare e poi riutilizzare queste con fatica riusciamo a riutilizzarle se hanno magari come questo design che magari è più compatta perché ha tutto il contorno compatto se è una cosa un po' più libertina diciamo più spazi aperti è difficile che riusciamo a salvarla penso che sia sufficientemente polimerizzato il mat io in questo momento volevo fare la scialla e scialla non si può facciamo come fanno le professioniste e prendiamo in maniera figa la nostra mascherina e la andiamo ad applicare sulla nostra sfumatura ragazze qua di unghiette ne potete fare mille tipi mille varianti e mille modi e la cosa sarà una figata queste cose si fanno in aerografia ed escono che sono una meraviglia non avete l'aerografo lo fate con questa spugnetta sarà la stessa cosa bene a questo punto ragazzi io mi prendo questa non ci serve più mi prendo un pezzettino di spugnetta un pezzettino di spugnetta io vado sempre a striscioline lunghe così ragazzi poi indipendentemente da quanto me ne serve e me ne servirà in questo caso un pezzettino così e un pezzettino così perché dico questo? perché noi andremo a lavorare con il blu e lo faremo sul bianco aspettiamo che vi aggancio un po' più alta qua faremo le roseline blu e la faremo le roseline bianche allora io prenderò del blu mi prenderò del bianco sono fuori io voglio che mi vediate bene ecco qua andremo con la nostra spugnetta solito pizzico bello cicciotto questo sarebbe al posto di quelle penne che hanno quella specie di che ve le fa loro ve la passano come usarla per una vita ma non si usa per una vita o le ho viste pulire con lo scotch le ho viste pulire io personalmente le ho pulite anche sul topo cotto per togliere il colore ci ho perso la vita ragazzi con la spugnetta la usate la buttate e ve ne prendete una di nuova sapete che io sono per poche spese da tanta resa io faccio così e non ho problemi blu e blu si ragazzi blu 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 picchiettate un po' e andremo a realizzare le nostre roselline io mi fermerei qua guardate bene che sia tutto quanto bello uniforme non ci siano spazi vuoti che possiamo correggere anche dopo e non è che a tutto si può risolvere con lo con le unghie si può correggere tutto me l'appoggio qui non si sa mai e vado avanti con il bianco ho la raucedine oggi vedete che sono talmente sottili che poi si arricciano è difficile che riuscite a riutilizzarle andremo con il bianco da questa parte che può essere molto intenso qui e anche meno intenso poi a scendere vedete possiamo fare anche la sfumatura in questo posto in questo diciamo tra il blu che non ho ancora polimerizzato e anche qui creeremo un effetto sfumatura bene detto ciò e fatto ciò andremo a vedere il risultato non andiamo in lampada polimerizzare molto delicatamente andremo a prendere la nostra mascherina e abbiamo il nostro design non piace questa rosa lo sapete che sono difficile io allora se sta rosa ha la puntina ed è questa l'abbiamo fatta così è questa vuol dire che vediamo se riesco a salvarmi non voglio rovinare l'altro design vediamo se ce la faccio vediamo se ce la faccio a non rovinare qualcosa ah era fuori camera scusatemi si così già ho dato quel tocco un po' meno solista però non siamo alla perfezione vedete si è sformata non si è sformata io non salvo niente questa io la riccio e la butto e qui abbiamo il nostro effetto sfumato effetto proprio come fosse stato fatto con l'aerografo ragazzi è una bellezza unica potete fare mille cose mille varianti con le mascherine ne prenderemo un'altra e rimarremo nel soggetto che a me piace tantissimo ragazzi questo effetto sassi eccolo qui e questo effetto sassi che è di qua aspettate perché con la luce sembra che sia di qua poi è di là poi eccolo qua non fatemi finire male come prima quali quali la metto di traverso così mi abbraccia bene tutta l'unghietta e non faccio la figura di prima che me ne mancava un pizzettino e qua ragazzi potete sbiggiarrirvi per quanto riguarda anche il colore aspettate perché il pat fix mi abbandona qua potete andare sempre a contrasto col colore oppure totalmente deviare mi viene un'idea ragazzi il nuovo numero 8 pezzettino di pezzettino lo prendiamo tutto questo vai il numero 8 della moira ragazze è qualcosa di strabiliante questo è argento via la polvere argento puro argento colato lo vedete? argento colato io quasi quasi con questo argento colato vado a picchiettare e lo farò fino a un certo punto poi riprendo da sotto farò in modo di riempire quei spazzetti che intendo colorare la stessa cosa di qua vado a togliere la mia mascherina vedete? l'effetto sasso ha ricevuto l'effetto sasso se avete qualche imperfezione perché io la vedo prenderò prenderò del clincher formerò e vado a pulire ragazzi perché vedete che qua la spugnatura mi era uscita anche questo pezzettino qua ecco qua qua una bella scrittina con lo stampi qua siamo bellissimi vado a fermare il prodotto e metto in lampada con questo metodo ragazzi potete fare quello che volete mascherine ce ne sono di mille tipi avete mille striscioline mille cose potete attaccarci quello che volete questo kit che l'ho trovato in Amazon è veramente bello le ragazze sono state molto contente se non siete iscritti il mio canale Vicky Nails è un gruppo Nail Art e propongo sempre qualcosa di interessante abbiamo fatto anche questa per Natale non so se riuscite a vederla quando vi dicevo che non potete riutilizzarle perché sono abbastanza c'è troppo positivo e poco negativo ragazzi qua c'era abbiamo fatto una sfumatura che era bellissima vedete potete ad esempio utilizzare anche il positivo di questo quei pezzettini che vedete là appogliarli nell'unghia e poi con la penzetta toglierli è un lavoro toglierli è un lavoro un po' certosino però ragazzi certe volte vengono che sono una figata i cerchetti le spighette potrete sempre utilizzare il negativo e il positivo lo stesso questi pezzettini ma magari ve li tenete da parte le ondine era difficile insomma questo kit è bellissimo mi sembra che siano 35 soggetti uno più bello dell'altro San Valentino avete anche i cuoricini qua c'è da divertire dove ho tutti gli altri questi qua li lascio così vedete li chiudo e li metto via bene ragazzi ecco qua ecco qua ecco qua questa la sigilliamo l'errore qua che ho fatto ragazzi perché anche io non sono mica mandrache l'errore che ho fatto è stato di polimerizzare poco il bianco la prima passata vedete quello è un errore questa è l'idea ma qua qua mi boccio da sola ragazzi qua mi boccio da sola ecco qua abbiamo fatto l'inverso del colore che avevamo fatto la sfumatura abbiamo visto le sfumature in Euro Puffing Euro Puffing mi ricordo neanche più il termine eh e questo è e questo insomma è quanto la sfumatura in spugnetta più di qualche ragazza del gruppo mi ha detto mamma mia Tania ci ho messo una vita per fare la spugnetta col pennellino tatatata non esiste in due minuti è perfetta potete fare benissimo il baby boomer non l'abbiamo neanche fatto ma lo fate poi venite nel gruppo e me lo postate mettetemi un pollicione se ecco qua ragazze queste sono le tippine che abbiamo realizzato oggi io le ho arricchite un po con un po di spider e dei brillantini questo è l'effetto fatto sfumato con la spugnetta io spero vi sia piaciuto vi do un grosso bacio e al prossimo video ciao ragazzi e ragazzi ciao un bacione